Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, avere cura di ogni persona con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Nella frase di Papa Francesco si riassume il senso delle attività svolte da coloro che operano nel mondo del volontariato e a Pescara oggi sono state premiate 25 associazioni in occasione della 22esima edizione del Galà della Solidarietà. L'evento è stato ospitato dalla Sala Consigliare del Municipio ed è stato organizzato dall'Agenzia di Promozione Spettacoli e dall'Assessorato Comunale all'Assistenzialismo Sociale guidato da Nicoletta Di Misio. I conoscimenti sono stati consegnati nel corso della cerimonia presentata dal giornalista Paolo Minucci con il supporto di alcune finaliste del concorso di bellezza Miss Adriatico ai responsabili di 25 realtà consolidate sul territorio. Croce Rossa Italiana, Lilt, Misericordia, Agbe, Caritas, Endas Abruzzo, Istituto Rea, Wisp, Enpa, Unione Italiana Ciechi di Pescara, le associazioni diverse uguali, Onderoda, Dricesta, Carozzine Determinate, Anfas, Ananche, Il Risveglio di Manuela, Progetto Noemi, Prematuri, Wolf Pescara Castellammare, Porto Antico, Tiger Dance, Hancri Pescara e Dog Village. Ancora una volta abbiamo voluto premiare la loro volontà. Noi come Comune, grazie a loro, abbiamo raggiunto veramente degli obiettivi importanti. Non ci dimentichiamo il Covid quando siamo stati costretti a stare chiusi e grazie a tutti i volontari che hanno lavorato insieme a noi, alla loro volontà, siamo riusciti veramente ad avere un eccezionale risultato. Quindi oggi è una dimostrazione a loro di gratitudine e di dire grazie ancora una volta, ma vi assicuro che non basta mai. Non basta mai dire grazie a loro perché ricordiamoci che loro danno tanto senza chiedere nulla.